buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi ragazzi sto andando a visitare una signora una parente di mia moglie con lo stesso cognome mio saracino che ha 100 anni li ha festeggiati un mese fa ora mia moglie mi chiedeva sai in base a quello che mangia come si muove bla 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 la verità è che nessuno scandaglia guarda visita i pensieri le emozioni di questa signora che ha perso il marito tanti anni fa ma che non si è resa nella vita ok quindi vivere cent'anni o più di cent'anni 120 150 160 non è utopia se uno ci crede e non è neanche merito dei farmaci e merito delle convinzioni interiori se io credo di vivere tantissimi anni vivrò tantissimi anni e questa è la verità il dubbio se io mi faccio suggestionare del che è morto prima un mio parente un mio genitore a 80 anni bel rischio di morire come lui a 80 anni che cosa che vedere l'ipnosi vera e professionale in tutte queste belle parole bene se tu hai la paura di morire ad una certa età puoi togliere quella convinzione quell'immagine dal tuo subcosciente soltanto utilizzando l'ipnosi dcs vera e professionale per cui anche con un solo audio mp3 dcs può sconfiggere questa paura e cambiare le tue immagini interiori una volta nell'amazzonia dove la civiltà non era arrivata chiesero a dei degli indigeni perché campassero fino a 160 anni 150 140 e tutti rispondono ma perché mio padre è morto 145 mio nonno è morto 168 bla 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 ci facciamo influenzare da chi ci sta accanto ragazzi quindi da quello che vediamo da quello che recepiamo da quello che facciamo nostro ora con l'ipnosi vera e professionale abbiamo questa grande chance di uscircene prima possibile prima possibile ok quindi fammi tutte le domande del caso vista la mia fan page su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipronergeassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli cambia la vita visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e scusami se sto tagliando in corto perché dalla regia mi fanno segnali di fumo ok quindi se vuoi vivere più di cento anni credi in te stesso credi che può farcela ma convincere il tuo pilota automatico il tuo genio della lampada da ladino il tuo subcosciente un bacio un abbraccio dal dottore claudio saracino e alla prossima